Amici di Euromusica, è per me un immenso piacere ospitare quest'oggi un'artista straordinaria e con noi la vincitrice del premio della Ritia di Musicultura 1000. Ciao, grazie a tutti, grazie per la presentazione, bellissima. Innanzitutto, come stai, come emozioni hai vissuto quando hai vinto il premio della Ritia sul palco di Macerata di Musicultura? Posso dire che sto bene, sto veramente bene, sono molto molto felice, un premio inaspettato anche in modo in cui me l'hanno comunicato, a un certo punto mi hanno detto vieni con me, dove? Perché poi era durante la serata, quindi non è che lo sapevo prima, ovviamente, anche se i risultati so che sono stati consegnati dai giornalisti alle 17 circa, mi sembra, e quindi era un premio che già sapevano un po' lo staff. Quindi a un certo punto, durante la serata, mi chiamano, mi accompagnano dietro le quinte sul palco e io dico, beh, nel senso non ho gli nirmoni, c'è che bisogna fare? E quindi mi hanno detto, beh, hai vinto il premio della critica? Io ho fatto, ma come? E mi hanno spinto sul palco, quindi sono entrata con questa notizia splendida e niente, poi ho detto le cose che mi sono uscite dal cuore e quindi sono stata veramente estremamente felice. Quindi sei stata letteralmente presa, atapultata lì sul palco senza un preavviso. Esattamente! Beh, le cose più belle, perché poi sono le emozioni a caldo, quelle che sono le più vere. A Musicultura hai presentato un brano e si intitola la radio, ce lo vuoi raccontare? Sì, è una delle ultime canzoni che ho scritto e per me rappresenta un po' il punto di remarcazione tra la mia pubertà musicale e l'adolescenza musicale, anche perché ho iniziato a scrivere in italiano relativamente da poco, saranno due o tre anni. E quindi per me rappresenta un punto di passaggio chiaro di quello che è il mio percorso compositivo in italiano. e avevo mandato questa canzone in una forma di provino, assolutamente una forma embrionale e l'hanno scelta per la gara, insomma. Quindi per me è rappresentata anche un po' una sorta di pacca sulla spalla, di conferma che la mia evoluzione in quel momento stava andando nel verso giusto. E come tante canzoni che scrivo, senz'altro l'ironia la fa da padrone, anche perché per me rappresenta un po' quel poco di zucchero per mandare giù la pillola. Questa canzone è l'argomento che tratto, perché ovviamente poi è una cosa estremamente personale, gli altri ci possono vedere qualsiasi tipo di forma di amore, di affetto, eccetera, eccetera. Per me questa canzone è il soggetto anche di questa canzone, ha un nome e cognome ovviamente. E quindi per me è stato anche un po' il lancio, diciamo, per affrontare una situazione non bellissima, però nella giusta maniera, insomma. Diciamo che non posso andare in giro armata e quindi con tanta gentilezza e delicatezza, diciamo, colpisco con la spada le cose che non mi piacciono. Non era la tua prima volta un concorso musicale, certo, forse è la prima volta un concorso di questa portata, però è partecipato, è un talent, X-Factor, come voce dei musici, e prima ora lo zettino d'oro. Sì, diciamo, le esperienze sono, diciamo, i contesti sono quelli di gara, quello che cambia ovviamente è il contenuto, perché per me è la prima volta che mi metto in gioco come mille, perché pur avendo suonato in lungo e in largo, in tanti contesti diversi nella mia vita, questa rappresenta comunque una grandissima prima volta, proprio perché è tutto molto nuovo, è nuovo il concetto musicale che propongo, è nuovo il fatto che io mi propongo, mi presento come solista, anche se poi, questa cosa la dico sempre, la musica è comunque collettiva, quello che si fa è sempre una questione collettiva. e quindi sì, come si dice, seppur ho tanta esperienza, comunque per me rappresenta comunque quella bambina davanti alla prima volta che fa qualche cosa di meraviglioso, c'è sempre quell'emozione lì. Ascoltando i tuoi brani si nota subito che non c'è un elemento predominante in tutti quanti, sono ognuno diverso dall'altro. Cos'è che ti ispira a creare questi brani così particolari, ognuno diverso dall'altro e soprattutto mai banali? Beh, le catastrofi che mi circondano e di cui sono anche spesso la protagonista. Come le, come diciamo, le canzoni secondo me vanno di pari passo con la persona, quindi per ovvi motivi sono sempre in evoluzione e cambio sempre, seppur rimango sempre io, però i nostri occhi, le nostre orecchie si evolvono comunque con quello che ci succede. Di conseguenza le fotografie che faccio dei miei momenti di vita sono necessariamente diversi perché cambiano sempre di conseguenza e quindi non posso fare a meno che fotografare la verità che sto vivendo in quel momento. C'è un artista a cui ti ispiri? Un artista, un personaggio dello spettacolo, del cinema e della letteratura a cui ti ispiri particolarmente? Beh, non ce n'è solo uno, ce ne sono tantissimi, Raffaella Carrà, Patti Pravo, i grandi cantanti di Una Volta, per me sono, diciamo, muse ispiratrici, Milva, ma anche tantissimi altri cantautori. Io sono innamorata immensamente di Gino Paoli, di Lucio Dalla, anche se poi non sono solamente artisti italiani che mi hanno educata musicalmente, ce ne sono anche tantissimi internazionali, uno tra tutti è Elton John che mi ha praticamente cresciuta e da quando sono piccola che sono una grande fan di Elton John e il fatto è che non ce n'è uno in particolare, ma ce ne sono tantissimi e mi piace prendere da tutto ciò che mi piace e poi fare in un secondo momento opera di discernimento, come dire. Quindi adesso sono i primi che mi vengono in mente, ma perché sono quelli che anche mia mamma mi diceva che quando ero piccola, insomma, quando dicevo che ero innamorata di Raffaella Carrà, ma anche di Pippo Baudo, questa cosa che me la ricordo perfettamente, quindi sono questi i primi nomi a caldo che ti ho fatto. Mi viene da sorridere perché quando sono andato a scrivere poi il resoconto delle serate, ascoltando il tuo brano, ho ritrovato qualcosa di Raffaella Ryan e di Patti Bravo nel brano che ho portato in concorso a musicultura, quindi mi fa piacere scoprire di aver indovinato in qualche modo. Hai indovinato? Sì, 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 me le porto dentro, cioè fanno parte proprio di me. Domanda un po' spinosa, tra gli artisti quest'anno a musicultura c'è qualcuno che ti piaceva particolarmente? Beh sì, l'artista, anzi sono due perché è un gruppo che hanno vinto, sono diciamo i nomi su cui avrei puntato, senz'altro. Com'è andata la preparazione della serata finale? Sai, lì c'era da fare una cover e poi la canzone di Enrico Ruggeri, Mistero, da cantare tutti insieme. Com'è andata la preparazione di quel momento? È stata molto molto bella, abbiamo fatto le prove durante il pomeriggio in una saletta insomma vicino allo spedisterio e ognuno di noi, dei quattro finalisti, anzi dei quattro vincitori finalistici, vengo a seguire insomma le indicazioni che ci ha dato Musicultura per l'esatta denominazione. È stato molto bello interagire tra noi quattro e con i musicisti di Enrico Ruggeri, che ci hanno accompagnati poi sul palco. Era tutto molto vero, era tutto molto concreto, un po' perché, caspita, stavamo proprio alla super finalissima e poi perché abbiamo anche tutti quanti avuto proprio la concreta sensazione che si era tornati alla realtà, perché comunque trovarsi in una saletta e quindi interagire con i musicisti, interagire per fare il cut giusto, per fare il giusto arrangiamento, insomma è stato veramente un ritorno alla realtà che ricordavamo, insomma. Quindi è stato molto bello, è stato molto bello cantare insieme poi sul palco, insieme a Enrico Ruggeri e ai musicisti splendidi che lo accompagnano sempre in tour e ti farei un elenco lunghissimo, insomma, di tutte le sensazioni. È stato tutto molto molto bello. Cantare anche un classico, Mistero, è stato splendido. Cantare Ritornerai, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto, è stato meraviglioso. E mi sento fortunata, devo dirlo. E a proposito, come hai scelto di eseguire proprio quel brano, proprio Ritornerai, di Bruno Lausi? Beh, lì ci avevano chiesto, insomma, delle canzoni che sentivamo nostre, che ci hanno in qualche modo educati, musicalmente parlando, e quindi per me Ritornerai è una delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Quindi non potevo nemmeno esimermi dall'essere fedele a me stessa, diciamo che è una canzone che canto da sempre, che la canto e la suono da sempre. Quindi, insomma, ci avevano chiesto diversi titoli e sono anche molto contenta che abbiano scelto proprio Ritornerai, perché è una canzone che mi ha fatto spesso sentire in un altro momento storico proprio, e anche un po' mi ha fatto viaggiare lontano da me, come dire. Guardando un po' i tuoi profili social, si vedono contenuti abbastanza interessanti, tipo ultimamente ho visto delle storie Instagram dedicate al mondo dei tarocchi, è un mondo che ti affascina questo. Allora, io amo disegnare, e quindi ho iniziato ad approcciarmi ai tarocchi perché li disegno, e mi piace molto tutto quello che è l'iconografia dei tarocchi, che è, diciamo, ampissima, nel senso che ci sono tantissimi artisti nel mondo che hanno reinterpretato e ridisegnato i tarocchi. E quindi mi sono avvicinata ai pianeti e ai tarocchi per questo motivo, per una questione puramente estetica. In verità, dietro agli alluminamenti dei pianeti c'è una vera e propria scienza, che mi affascina e che sto imparando, che ho iniziato a studiare da poco. Quindi ti saprò dire meglio fra un po' di tempo, quindi magari saprò anche fare il tema natale fra un po' di tempo. Aspetterò allora quel momento per il mio tema natale, se abiterà. Perfetto. Da disegnatrice invece c'è un artista, un fumettista, un disegnatore, e ti piace particolarmente. So che siamo fuori dal mondo della musica, però comunque è un argomento che mi ha sempre affascinato, quindi... Beh, c'è un artista che è la mia artista preferita, sia lei che il marito, che è Frida Kahlo. Ma anche l'arte di Diego Rivera mi è sempre stata a cuore. Fra l'altro Frida Kahlo ce l'ho anche tatuata, quindi non potrei fare altrimenti. Lei mi ha passione e mi piace sotto tutti i punti di vista, come donna per quello che ha rappresentato e quello che ha fatto, e sotto assolutamente al profilo, sotto il profilo artistico. Sono stata a tutte le mostre possibili e immaginabili che abbiano potuto dare qui in Italia, praticamente. Va bene, io ti ringrazio per la disponibilità e ti faccio un'ultima domanda. Vuole qualcosa in pentola, i progetti futuri, qualcosa che ci puoi cercare? Sì, senz'altro ce ne sono tanti. Questo anno di pandemia ha insegnato a me e anche a tutto il team, insomma, col quale lavoro, che bisogna far fronte a tutte le venienze. Quindi siamo sempre pronti a qualsiasi cambio di rotta e questa è una grandissima cosa, è un grandissimo, come dire, insegnamento. Ci saranno probabilmente delle occasioni live che mi potrò esibire e parallelamente questo mese di luglio lo passerò H24 in studio a chiudere le nuove cose che, diciamo, la radio, questa canzone ha aperto, come dire, un vaso di Pandora per me e quindi nel mese di luglio e parte di agosto metterò, diciamo, insieme tutti i pezzi. Va bene, grazie mille ancora per la disponibilità e un invito a tutti i nostri lettori, ascoltate la musica di mille, perché è veramente musica bellissima. Io sono Johnny e sto ascoltando in loop i suoi brani, quindi... Grazie, grazie di cuore. Grazie.